Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo unboxing time Dovrei in effetti trovare o fare una sigla per questi video unboxing Vabbè dai, chiacchiera a parte, magari suggeritemi qualcosa qua nei commenti Bentornati in questo nuovo unboxing Unboxing come avrete visto dall'immagine, non so dalla copertina, dal titolo, non ho idea Nuova attrezzatura ragazzi, attenzione Dunque mi raccomando ragazzi, lasciate tanti tanti like per questo video Perché preparatevi, c'è della roba bella potente qua dentro Ovvero superiamo i 100 like per questo video Quindi mi raccomando ragazzi, lasciate like, condividete i video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti E lasciatemi anche qua sotto qualche commento, mi raccomando Tenete d'occhio il video che uscirà lunedì Direi di andare alla sigla e all'apertura dei pacchi Grazie a tutti Allora ragazzi, per lunghezza del video è stato diviso in due parti Quest'oggi è Carlo Molinello e Filo E prossima volta delle esche da panico Dunque mi raccomando, non perdetevi l'episodio venerdì prossimo Dunque, cosa più a vista, ci vede un guadino, almeno una rete E eccolo qua Piccolo compatto rete gommata, guadino Predator Pro Ha una particolarità, bella rete campiente in gomma Che volendo si può usare anche per le carpette Manico comodo perché possiamo tenerlo appeso Chiuso così Si può appendere ai pantaloni Allo zaino, alla borsa Per aprire è veramente semplice Guardate, è anche figo tra l'altro Cioè, ready to use Per sganciarlo basta tirar giù qua E' a posto In più, non è solo questa lunghezza qua Questo, come vedete qua, più o meno sarà un metro Qua è pure regolabile in lunghezza Non aspettatevi 5 metri Però comunque, si allunga un bel po' Mi servirà un bel guadino Anche perché Prossimamente c'è in mente di fare delle belle cosette Il guadino così Intornerà molto ma molto utile Dunque direi Di passare al secondo oggetto Ovvero, ve l'avevo già fatto vedere questo È il Drex Taglia 2000 in questo caso Come Su amichetto qua dietro Ecco qua Qua dietro Identico, il fratellino Questo Che dopo andrò a metterla sopra tanto Questo Piccolino E leggero Molto compatto come moline Molinello che sto utilizzando sulla bolognese Attualmente Però Sono andato a Prenderlo Per La Canna da truttare La Seica Finesse Limited Ultra Light Un bel molinello Abbastanza leggero Ci sta lo stile Anche con la canna Soprattutto per quello che ho preso No, oltre a No, oltre a quello È un ottimo molinello Andrò a abbinare con Del Gorilla Silver Dello 014 Per allanciare ancora meglio Gli Spoon A Long Distance Molinello veramente Veramente carino Corpo opaco Non Ricordo Che materiale Quattro cuscinetti Più uno Mi ricordavo bene Non ha la bobina messa Ma poco importa Ha una bella frizione Non ha un prezzo molto elevato Ha l'archetto monopezzo E Un'estatica Veramente Veramente Carina Molto Fluido E tra l'altro Pomellino In gomma Molto Ma molto Devo dire Utile Perché Dà un ottimo grip E Lo utilizzo da Un po' di mesi Sulla Bolognese E mi trovo Veramente Veramente bene E questo andrò a abbinarlo Alla canna trottare Anzi Lo facciamo subito Vediamo un po' Eccola qua Ci sta Veramente Veramente Un sacco Direi Guardate qua Un nello Richiamo L'impugnatura Ed è veramente Veramente carino Stiamo bello Con il pomellino In sughero Che richiama un po' La fine del calcio Però ci sta lo stesso Anzi Forse è più comodo Così in gomma E Così Anche abbiamo Abbinato questa Guardate che bene Che ci sta Veramente Veramente bella Adesso andiamo A appoggiarla qua Perché Abbiamo Altra bella robetta Adesso abbiamo La canna Però attenzione Che non è L'unico punto forte Di questo video Canna Che se vi ricordate Il video A aging Che avevo Preso la canna nuova Avevo preso Il mulinello Ovvero Il redon Che qua dietro C'è la scatola Ho detto Magari Dobbino Abbiamo un'altra canna Ed ecco Qua la canna Allora Preparatevi Non è una canna Proprio ultra light Sì sto tirando fuori Da prima Parte Eccola qua Stupenda Seika Spirit 2 metri 10 5 10 Grandi Veramente Una bellissima estetica Anche questo È un prezzo Veramente Abbordabile È un'ottima canna Per fare Bass fishing Volendo Nelle versioni più leggere Cavedano Trota Reale Chi più ne ha Più ne mette Si può usare La spigola Io l'ho presa Giusto per Utilizzare Esche un pochino Più pesanti Magari Per perca Magari Trovare anche Un big perca Spigole Cavedani Con esche un pochino Più grandi Andare a trote Sicuramente Trote in torrente Anche se è un pochino Corta Ho preferito la versione 2,10 metri Per poter pescare Anche dal kayak Cosa che non è Scontata Con una 240 Anelli Fuji Quindi ottima qualità Le finiture Oro Vedessimo carbonio Azione fast Adatta ad utilizzare Hardbait Come jerkbait Topwater Crank Canna praticamente Da trota E spigola Azione Fast Una bella piega Anche Come vedete Perfetta per Jercare Manico veramente Stupendo Con Questo suguro E quest'eva Che si fondono Benissimo Formano una canna Bella Anche per il Bass Fishing Ed eccola qui Abbinata a Redon Veramente Veramente bella Guardate poi qua Che figata Guardate che bella Vedete veramente Stupenda Che abbinata a Redon Fa veramente una bella scena Guardate come si abbina bene Redon Un ottimo muninello Un'ottimo muninello Comunque ho iniziato a provarlo Molto leggero Fluido E affidabile Ve lo consiglio altamente Se state cercando Un ottimo muninello Per praticamente Tutte le fasce di spinning Cioè veramente Cioè veramente Un muninello da paura Ottima frizione Archetto monopezzo Eccetera eccetera Cioè Non trovo difetti Comunque Canna Andremo a provarla Molto molto presto Ve lo assicuro E anche con dei bei pesciotti Veramente belli E con delle esche Che adesso vi andrò A far vedere Che sono il top Del top Secondo me Ok Adesso C'è la busta Delle magie Allora Non so Intanto Viral 008 Da abbinare Alla canna E il muninello Che vi ho appena fatto vedere Che andrà anche Su quella da edging E qua Dietro Eccola qua 008 Ve l'avevo già fatto vedere Quello montato Sulla canna da light La mia optical Ottimo filo Veramente È il trecciato migliore Che ho mai provato Perché è quello Che resiste di più Quello che si dilatta di meno Quindi permette Lunghi lanci Anche Dopo un po' di tempo Ed è quello Che resiste di più All'abrasione Eccetera eccetera Veramente Veramente meglio Degli ultimi Che ho provato Di tutti Per esempio Ho i vecchi 008 Che ho montati Sulle canne Quelle che Della marca Che prendono di solito Che lo 008 Diventa il doppio Di questo Molto di più del doppio Si espande veramente Veramente tanto Hanno più o meno Lo stesso Carico di lettura Però questo permette Di lanciare molto di più Nel tempo E resiste un po' di più Quindi Molto meglio E Sempre Stesso colore Non ve lo teno neanche fuori È quel giallo verdino Che però Ci sta Dunque ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto Come detto prima All'inizio del video Il video sarà diviso in due parti La prossima sarà venerdì prossimo Dunque mi raccomando Lasciate un like Condividete il video Iscrivetevi al canale Se non siete ancora iscritti In modo da non perdervi altri video Non c'è altro da dire Ciao a tutti Ciao a tutti